Ancora attimi di paura sulle strade della Tarantino. Un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 10 novembre sulla carosino Francavilla Fontana, storica arteria di collegamento del sud della Puglia. Al km 15,600 un'auto si è impennata senza collidere con alcun altro mezzo. Lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori è stato davvero preoccupante. La vettura ha perso letteralmente per strada parti del motore della carrozzeria, ruote e una lunga scia d'olio. Il giovane conducente, cosciente al momento dell'intervento dei sanitari, ha riportato una frattura al piede ed è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e i carabinieri, che comunque dovranno stabilire la dinamica del sinistro, sulla quale al momento non è possibile formulare alcune ipotesi. Resta il sollievo per il pericolo scampato e la raccomandazione da rivolgere a tutti gli automobilisti di rispettare totalmente il codice della strada, soprattutto limitando la velocità e i rischi per la propria incolumità.